Tutto questo sarà vagliato e interpretato con la fantasia di un personaggio, una sorta di voce narrante che intraprenderà appunto una ricerca su questo pioniere, un personaggio diciamo di un giovane ricettore alle prese con la sua tesi laurea, interpretato dal bravissimo Gianluca Testa. Vi è mai capitato che la vostra curiosità inneschi qualcosa di incontrollabile e di punto in bianco vi ritroviate a chiedervi che cosa sto facendo? A me sì. Mi chiamo Andrea Martucci e questa è l'incredibile storia di Ernesto Maria Pasquali. Buongiorno, sono Andrea Martucci. Sì, salve, salve, sono Andrea Martucci. Vorrei fare una ricerca su suo nonno, Ernesto Maria Pasquali. Ernesto Maria Pasquali. E chi diavolo era? Perché sono un ricercatore dell'università di Roma. Ricostruire la vita di un pioniere del cinema muto dimenticato da tutti. La mia non era più una scelta, era una missione. Dovevo saperne di più. Ero come una biglia di ferro vicino a una calamita. Se credete che sarei rotolato dall'altra parte, Betto, vi sbagliate. E quando ormai ne sapevo abbastanza, decisi che forse ne sapevo troppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.